Al primo accesso o in seguito all'aggiornamento dell'app ArubaPack si visualizza il seguente avviso dal quale è possibile attivare, in base al modello del dispositivo in tuo possesso, un sistema di protezione, tra cui l'impronta digitale, Touch ID, il riconoscimento facciale, Face ID o il codice PIN di sblocco. In questo video ti mostro come attivare o disattivare tale protezione all'accesso. Per attivare la protezione dell'app, verifica prima di tutto che sia aggiornata alla versione più recente. Apri l'applicazione, apri il menu in alto, tocca Impostazioni. Abilita il selettore in corrispondenza dell'opzione indicata per attivare la funzione. Per disattivare la funzione, la procedura è la stessa, ti basta solo disabilitare il selettore. Se è attiva la verifica in due passaggi, non è possibile disattivare la protezione. Se si disattiva o si cambia il sistema di protezione dalle impostazioni del dispositivo, in fase di accesso alla casella PEC dai pannelli di Aruba è necessario eseguire nuovamente la procedura di associazione del dispositivo alla verifica in due passaggi. Per maggiori dettagli su questa procedura, consulta il tutorial dedicato.